Sono la maestra Lucrezia e come voi in questi giorni sono a casa, sono nella mia casa di Lodi. Però non sono sola, ho con me tre amici che mi fanno compagnia. Ho Gufetto che mi aiuta ogni volta che io preparo i compiti per voi e mi dà tanti consigli ed è molto contento perché anche lui vede che vi state impegnando proprio tanto. Poi c'è Kiwi. Kiwi è un simpatico uccellino che ogni tanto diventa triste perché vorrebbe ritornare nella sua casa, ma la sua casa è tanto lontana, è in Nuova Zelanda e io gli ho spiegato che in questi giorni non si può andare fuori perché è pericoloso, ci potremmo ammalare. Infine c'è il nostro amico Spank che è così simpatico anche se a volte è un po' monellino perché vorrebbe correre fuori a giocare a pallone e anche a lui ho detto guarda Spank non si può, torneremo tutti a giocare a pallone, a calcio e io ti porterò con me a Milano a conoscere i miei bimbi della prima B di Vallarsa e tutti insieme ci divertiremo tantissimo. Vi abbraccio e spero davvero bimbi di rivederci prestissimo.